I carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno deferito in stato di libertà un soggetto 43enne pregiudicato di oliastro cilento, trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di cocaina divisa in dosi, hashish e marijuana, nonché due coltelli a serramanico e materiale per il confezionamento. Nella stessa circostanza è stata rinvenuta anche una baionetta della Prima Guerra Mondiale con tanto di matricola. Di qui la denuncia in stato di libertà per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e inviata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per le analisi quantitative e qualitative.